La Benedetto metropolitana di Madrid, vi faccio vedere la metropolitana di Madrid, ok? Brilla per terra, cioè profuma, ok, biglietteria, la gente fa il biglietto, mappa, ci sono 12 linee metropolitane, la città completamente servita da tutte le linee che escono fuori, ok? Cioè praticamente qui hanno 12 linee metropolitane a Madrid, cioè hanno più linee metropolitane solo a Madrid che tutta noi in Italia messo assieme, ma perché qui hanno fatto? Perché qui hanno fatto? Allora praticamente splende. Argoni? Questa è la linea qua. Adesso devo andare a prendere un'altra linea, devo andare alla stazione di Ciamartina. Adesso devo prendere questa qui, la linea 10 che vado alla stazione per prendere il treno per andare a Segovia, la stazione Ciamartin, cioè la decima linea perché qui ne hanno 12, cioè rendetevi conto, qui hanno fatto, qui hanno fatto. Olambre, ma com'è qua? Allora, Madrid metropolitana, 12 linee, super servita, qui hanno fatto, fatto, non parole, hanno fatto, fatto. Da noi sento anni, sento sempre parole, 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 parole. Da noi a parole sono bravissimi, sono bravissimi, a parole sono bravissimi. Io so che dalle mie parti ci sono due ponti di cento passa anni, uno l'ha chiuso, un traffico della Madonna, qui hanno fatto, qui fanno, da noi fanno parole, 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 parole. A parole sono i più bravi al mondo, a parole. Sì, qui siamo all'interno del vagone, metropolitana, linea 10, tutto pulito. Linea 10, perfetta, pulita, tutto pulito, tutto preciso, perfetto, non c'è per terra un mozzicone, non c'è una scritta. La gente ha molto più rispetto delle proprie cose. E Barcellona è uguale, Barcellona siamo più o meno lì. Sono 30 anni, minimo, ma anche 40, perché penso che fra 40 anni non avremo a Milano, Roma, 12 linee metropolitane. Sono minimo 40-50 anni avanti a Milano. Guardati, la Benedetto è fermata metropolitana, Spagna-Ciamartin. Cioè, ragazzi, qua così praticamente ci puoi mangiare per terra. Oh, brilla, splende, non c'è per terra. Allora, ascensori là, tutto, cioè, tutto preciso, massimo rispetto per la gente che ha comunque delle invalidità. Un altro mondo, un altro mondo. Sono 50 anni avanti, sono 50 anni avanti rispetto a noi. Risture, guarda che la struttura è grande, ma vieni a vedere, Spagna, ma faglielo vedere agli italiani, che da noi fanno solo chiacchiere, 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 sempre chiacchiere fanno. Guarda, lascia stare, guarda, guarda, mi fanno un paese, sono troppo incazzato, guarda, sono troppo incazzato, guarda. Ma guarda, ma guarda che infrastrutture che hanno qui, Spagna. No, ma veramente. Ho fatto un gioco di luce, con il tipo che sta scendendo una fontana. No, ma, no, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Altro mondo, altro mondo, ragazzi. Altro collegato, tutto super servito, guardate quante linee metro, adesso si va a prendere direttamente il treno. La metropolitana di Madrid, la gente fa il biglietto, nessuno gli dà fastidio, nessuno, nessuno li importuna.